Grazie a tutti. 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 I settori di intervento conducono a una matrice di interventi. Questi interventi poi vengono valutati in funzione di costi benefici con la committenza. Ecco, nel nostro caso appunto, come vi dicevo prima, è stato due torri più un edificio basso ad uso sostanzialmente di sale, riunioni e mensa, mentre gli edifici alti come si diceva prima è ad uso uffici, poi due autorimesse. Ecco, il proprietario, l'edificio era destinato a un monotenant con delle richieste prestazionali abbastanza importanti pur trattandosi di un edificio degli anni Ottanta. e quindi c'è il discorso su riscaldamento, quindi c'è il discorso su riscaldamento, la filtrazione, la purezza dell'aria, l'umidità, la luce, l'energia e anche un discorso di certificazione ambientale che poi vediamo che per motivi di budget è stato un po' messo da una parte. Ecco, l'edificio degli anni Ottanta, come dicevo prima, involucro grandi facciate vetrati, parti di strutture in cemento armato non isolati, impiantistica, produzione di calore, caldaie a gasolio, caldaiette autonome, produzione frigorifere, gruppi frigorifere ad acqua, torre, split, sparsi un po' ovunque, terminali, fancoisa in ambiente e illuminazione, faretti allogeni più lampade fuorescenti. Ecco, qui abbiamo un po' affrontato il tema per la ristrutturazione dei terminali interni in modo sia qualitativo ma anche quantitativo, come si diceva prima, e quindi rispetto al caso Balde, quindi linea rossa, abbiamo valutato diverse ipotesi di sostituire tutta l'impiantistica, i terminali interni con travi fredde e con altre soluzioni. Dove c'è l'intersezione sono i tempi di ritorno che oltre all'investimento iniziale tengono conto dei costi di gestione, quindi di manutenzione e anche di energia. Quindi abbiamo visto soluzione dei convettori, la soluzione base, travi fredde attive, travi fredde passive, cassette a V a V a portata variabile nei vari ambienti, distribuzione dal basso, soffitti radianti e attivazione della massa in alcune parti era possibile farlo. Per poi arrivare a una matrice, anche questa qualitativa, il giallo dal punto di vista del comfort, flessibilità di passaggi, altezze di controsoffitti, spazi, cavedi, quindi tutti i parametri qualitativi, per poi arrivare a un discorso di costi e di tempi di ritorno. Ecco, dal punto di vista così complessivo qualità e tempi di ritorno, la soluzione migliore era quella di utilizzare dei pannelli radianti a soffitto messi in cascata con i vetilconvettori esistenti. Ecco, poi questa soluzione costava un milione di euro in più e quindi non è stata adottata. Ecco, abbiamo però elencato una serie di interventi, come dicevamo prima, che partono un po' dall'involucro esterno e questi edifici, come si vede in questa foto, la cosa che appare è che questa facciata è una facciata esposta, sud-ovest e quindi quanto di peggiore possa essere dal punto di vista dell'irriaggiamento solare. Le soluzioni che avevamo erano quelle di fare un intervento architettonico importante, quindi una schermatura esterna di un certo rilievo e anche costo, schermature interne che come sapete hanno una scarsa efficacia, pellicole adesive schermanti oppure un'integrazione con una facciata fotovoltaica in alcuni punti. Ecco, poi è stata scelta la soluzione di pellicole adesive attaccate alle superfici, sia superficie finestrata di tutte le facciate sud-ovest. E come vedete si dà i numeri, prima era presente una doppia lastra con fattore solare di 0,81, si è andato dopo l'applicazione della pellicola a un fattore solare di 0,37, quindi una riduzione di rientrate estive di circa il 55%, solo come rientrate estive. Poi abbiamo visto la copertura dell'edificio basso, praticamente che era poco isolato, quasi niente, e quindi era un punto debole di tutto questo edificio. Le vetrate sono state completamente sostituite e abbiamo isolato con 12 cm di polistireno estruso tutta questa copertura. Ecco, sono state ridotte rispetto a prima perché praticamente non c'era niente, 60% le dispersioni dal tetto. Poi, come diceva prima il professore, questo è un intervento tipico, qui avevamo ampi margini di manovra, praticamente c'era una caldaia a gasolio e abbiamo preso caldaia a condensazione per quanto riguarda una delle due torri con un rendimento di produzione migliorato di circa il 30%, che era un po' allineato con i numeri che si dicevano prima. Mentre per l'edificio basso avevamo sia gli spazi che anche la possibilità di intervenire dal punto di vista economico e abbiamo messo dei gruppi frigoriferi polivalenti, quindi che in inverno sostanzialmente fanno caldo per il riscaldamento, per la mensa che dicevamo prima e per il sanitario, mentre in estate lavorano tutti e due in freddo, però con parte del calore di scarto, cioè il condensatore viene utilizzato per acqua calda sanitaria, sempre per la mensa e acqua per il post riscaldamento dell'aria primaria negli ambienti. Poi abbiamo fatto una sostituzione di torri evaporative, unità di trattamento aria, le abbiamo allineate appunto con macchine certificate Euro-Ent, quindi minori consumi dei ventilatori, minori consumi di acqua di torre, perzi di carico di componenti più basse e anche un discorso di trasmissione dell'involucro delle macchine. Quindi già lì abbiamo avuto degli ottimi risultati solo avendo sostituito queste macchine. L'altro tema era il discorso dei corpi illuminanti, avevamo, a parte essere un edificio costruito e aggiornato negli anni, quindi avevamo dei corpi a fluorescenza, faretti alogeni, molto dispendiosi, cioè dal punto di vista energetico consumavano molto, abbiamo messo lampade fluorescenti ad alta efficienza con dimmerazione in funzione di illuminazione naturale e presenza di persone. Poi ecco, siamo intervenuti su inverter di unità di trattamento aria e pompe per adattare, diciamo, le portate, quindi i consumi energetici alla variabilità dei carichi. Siamo intervenuti sul BMS, sostanzialmente abbiamo unificato i tre sistemi presenti, abbiamo modificato gli orari di funzionamento, perché sappiamo che fa partire delle macchine mezz'ora prima, mezz'ora dopo, oppure spostare di un grado i set point su riscaldamento, su rifrescamento, vanno a generare dei risparmi molto importanti e poi la nostra idea era quella un po' di installare un sistema di contabilizzazione impostato come il credito 1 dell'energia del LID e quindi avere dei centri di contabilizzazione divisi per luci esterne, luci interne, caldaio, dove vedete verde sono contabilizzatori elettrici, giallo contabilizzatori di gas e rosso contabilizzatori di energia termica, quindi doppia sonda di temperatura più misura della portata. E niente, poi per motivi di costo siamo riusciti a prendere solo pochi contabilizzatori, però che ci permettono di tenere sotto controllo i consumi. Un altro tema che non è strettamente energetico, che l'edificio è stato preso un'occasione per bonificarlo, adesso sono edifici fiber free e abbiamo tolto tutte le lane minerali, sia lana di vetro che lana di roccia presente. Ecco, un cattivo isolamento, oltre ad avere delle dispersioni termiche, vedete la fotografia del tubo alla vostra destra, che appunto c'è condensazione superficiale, quindi queste tubazioni erano proprio da sostituire. Poi altri piccoli interventi, però come ci segna il professor Dallò, sono proprio tutta una serie di piccoli interventi che poi fanno l'efficienza complessiva di tutto l'edificio, e quindi abbiamo tolto l'umidificazione presente a vapore, abbiamo tolto la regolazione pneumatica, che ci costringeva a tenere un compressore acceso per 24 ore, e abbiamo inserito filtri elettrostatici, quindi abbiamo migliorato anche dal punto di vista del comfort e della manutenzione, cioè invece del filtro sostanzialmente meccanico che c'è su tutti i vetri convettori, abbiamo dei filtri elettrostatici che hanno bisogno, cioè hanno manutenzione zero nel corso, praticamente hanno bisogno di ogni sei mesi del manutentore che vada lì a prenderli, a pulirli, e poi c'era un discorso anche sotto, un discorso acustico, che abbiamo fatto una verifica negli uffici per contenere i tempi di riverbero di singoli ambienti, quindi abbiamo preso anche l'occasione per bonificarlo da un punto di vista acustico, oltre a ripristinare tutti gli isolamenti di canali e tubazioni. Ecco, questo è un po' il punto difficile dell'intervento, che su un intervento esistente dove si va a sostituire, dopo vedremo a macchia di leopardo pezzi di impianto, ed è il discorso della sicurezza, e quindi gli impiani della sicurezza che per loro natura hanno una centrale e devono essere rifatti allo stesso tempo, quando si inizia a mettere le mani su un piano sì, un piano no, e abbiamo integrazioni fra vari impianti, eccetera, è stato un tema difficile, almeno dal punto di vista progettuale. E poi un discorso della documentazione, cosa vuol dire che alla consegna dell'edificio abbiamo dovuto recuperare e integrare tutti i vari interventi, sia elettrici che meccanici, che erano stati fatti negli anni, con relativa dichiarazione di conformità degli installatori, e quindi allegati. Quindi rinfilare tutte le perline che sono state generate negli anni, e dare all'utente finale della documentazione completa, rifacendo anche alcune parti che non avevano più la documentazione necessaria. Ecco, avevamo fatto anche delle ipotesi, come vi dicevo prima, sulle rinnovabili, quindi avevamo pensato al tetto, a mettere del solare fotovoltaico sul tetto, avevamo valutato anche l'ipotesi dell'eolico, delle piccole turbine, però non sostenibili dal punto di vista economico, e poi per quanto riguarda le rinnovabili non è stato realizzato niente. Adesso, voglio soffermarmi due minuti sul discorso budget, nella nostra prima stesura, le due torri, l'autorimessa e l'edificio basso, praticamente c'era pieno di tutti questi quadratini. Ecco, questi quadratini sostanzialmente piano per piano avevamo detto cosa si andava a rifare, distribuzione elettrica, quadri di piano, impianti speciali, il rosso invece sono gli impianti meccanici, distribuzione aeroliche, tubazioni, sanitari, BMS, eccetera. Poi alla fine ci hanno detto, eh no, ci dispiace ma il tuo budget iniziale, cioè era la nostra stima iniziale di preliminare a 12 milioni di euro. Hai 6 milioni di euro per fare il lavoro. Allora siamo andati a cesellare, come vedete qui, piano per piano, sostanzialmente su una torre è stata fatta metà torre, l'altra piccoli interventi sull'altra torre, le autorimesse cambiate l'illuminazione, l'edificio C invece, quello basso che avete visto prima, è stato quasi completamente rifatto. E quindi questo giochino ci ha permesso, andando ad agire appunto con il committente, piano per piano, voce per voce, di ridurre il budget iniziale e andare alla metà dei costi. E' questo un po' il motivo che vi dicevo prima, che abbiamo dovuto, impianto per impianto, bonificarlo, tenerlo, integrarlo, eccetera. E con 6 milioni di euro, sconto di gara circa stato il 20%, poi compensato con le varianti. Logicamente facendo il lavoro ci sono state delle varianti, lavori aggiuntivi, migliorie volute anche dal committente. Ecco, quindi noi diciamo con un importo relativamente basso siamo riusciti ad ottenere un edificio con dei consumi energetici complessivi attesi del 30-40% di meno. Questo è un po' il riassunto del nostro intervento. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.